Buonasera a tutti, da Diego Crippa, da Bonnie. Stasera vediamo un nuovo computer, arrivato da pochissimo in Italia, introvabile. La Bonnie ci saluta. Introvabile. Sirwater Teric. Uno dei primi cinque arrivati è consegnato subito dall'importatore. Allora, scatola, confezione. Scatola per non farlo rovinare. Vediamo il contenuto. Ecco qui. Allora, vediamo subito. Qui abbiamo il caricabatterie e l'orologio. Caricabatterie wireless per questo computer subacqueo. Questa è solo una plastica. Questo è il caricabatterie wireless. Prodotto che arriva dal Canada. E' fatto in Canada questo computer. Allora, togliamo la protezione. Vediamo il contenuto della scatola. Allora, qui sotto troviamo il cinturino per l'allungamento per poter mettere il computer sulla muta stagna. Il manuale Teric Guide Start. Con le prime informazioni per come fare a usare il Teric. Chi ha controllato il computer quando è stato impacchettato e ha fatto la prova iperbarica? Con il numero seriale e tutti i dati e i dati di chi l'ha controllato. Devo dire che questa ditta è proprio molto fiscale e si comporta veramente molto bene. Searwater, un altro manuale con l'applicazione da scaricare sul telefono, un adesivo, un adesivo della Searwater con logo. Passiamo al contenuto della scatola. Allora, qui abbiamo il cavo USB. Cavo USB per collegare il trasformatore wireless al Teric. Non per collegare il Teric al computer perché va via Bluetooth. Una confezione in plastica con una maglia del cinturino che vediamo qua, nera, di scorta. Una chiavetta USB per il computer, un moschettone Searwater e i due cacciaviti per poter smontare il cinturino e rimontarlo. Un copri, una plastica copri display da applicare. Passiamo al computer. Allora, premendo un tasto, si accende. È luminosissimo. Modalità dive. Si vede veramente bene. Mi spiace che sono col cellulare e la definizione non è al massimo, ma ha un display che è completamente nero. E il nero sul bianco risalta in modo fantastico. Allora, premendo il tasto in alto, c'è la bussola. premendo questo da la direzione del nord. Vedete che si sposta. Vabbè, non sto a dirvi tutte le funzioni. Comunque, la cosa fantastica è che la bussola rimane sul display in modo di dar la posizione e non dar fastidio durante l'immersione. Faremo la prova sott'acqua, così vedremo un po' come si comporta. Per toglierla basta premere qui e la bussola se ne va. Allora, menu. Può fare anche da orologio. Ha varie schermate l'orologio. Adesso è inutile stare a vederle tutte, tanto queste le trovate dappertutto. È solo per far vedere un po' l'orologio. Ci sono varie impostazioni. Si può cambiare la luminosità. Ecco che così si vede meglio, però sennò è troppo luminoso. D'altronde adesso è sera. Modalità dive. Ha un display che è veramente fantastico questo computer. Come dicevo, fatto in Canada. Cinturino molto bello con i loghi dappertutto in silicone, molto morbido. Un bel computerino. Ho già guardato anche il software sul PC. È molto valido. È molto bello anche il software per il cellulare. Vediamo un attimino giusto per vedere le funzioni. Seleziona gas. Adesso è impostato sull'aria. Comunque ci sono varie selezioni. Gli allarmi. Il logbook. Questa è l'immersione che è stata fatta nella camera per barica. 77 metri per 60 minuti. Così si entra, si vede il logbook. Molto bello. Così si scorrono la temperatura. La sonda aria qua non è installata però fa vedere l'inizio e fine con i bar. Qua si può mettere la sonda dell'aria. Tutte le informazioni sull'immersione che è stata fatta. Peccato che mette poco fuoco cellulare. Ok. Veramente un quadrante fantastico. Veramente un bel quadrante. Con questo tasto si ritorna al menu principale. In pratica si va indietro. Poi abbiamo il bluetooth. Setting. Off. Home. Un gran bel computer. Molto visibile. Premendo qui si scorrono tutte le informazioni che si possono avere sott'acqua. l'ultima immersione. L'ultima immersione. La bussola. Profondità massima dell'ultima immersione. Quella media. Veramente un bel computer. il gradiente 4099. In immersione da tutti i dati dell'immersione. Ve lo farò vedere sott'acqua. Una buona serata a tutti. Grazie. Grazie.